Signore e signori il pisello di Robocop Sì no no, questo qui è un thermos che compravi, non ha già la miseria, ecco qua che per metterci la roba in maniera che mantenga la temperatura il più possibile Signori, allora io senti da un cuoco dire che i thermos che solitamente vengono in giro potevano andare bene pure per sostituire i D-War i D-War sono dei thermos abbastanza specializzati per poterci mettere tipo l'azoto liquido o altre cose del genere comunque se i pasticcelli che facevano, cioè che era quella la cucina molecolare non mi ricordo, diceva che poteva andare bene pure i normali, come cavolo si chiama i normali thermos magari bisogna crederci signori, eh vabbè, ognuno dice la sua, qui siamo in democrazia, ognuno dice la sua signori comunque questo qua, no? vedete, è un thermos, questo è un acciaio inox 18 e 8, non è 18 e 10 però dicono inox, no? io vedo, non so se riescono a vedere, no? un paio di macchie di ruggine, ecco, non so se si vedono vedete, queste qui sono un paio di macchie di ruggine, come Caspino fanno, adesso c'è macchie di ruggine, se che è 18 dicono che è inox comunque dentro qua, tutto in metallo non è l'unico pezzo comunque, è stato incapsulato, saldato, che caro Caspino ne so comunque qui si mette, si può mettere pure i soldi, però è più adatto ai liquidi vedete, mettete i liquidi qua, anche tipo il caffè, questo è un bel litro di caffè, no? ci stanno pure le altre misure, però io ho preferito prendere questo la meridiana avevo presi due, e li comprai che servono 9 euro, se non ricordo male però uno ce l'ho, questa mia madre ce l'ha passata a un amico, e non me l'ha riportata più comunque, vedete qua, fai così e questo poi ci versi l'acqua, no? l'acqua, il caffè, o il tè, o il zucchero, che cazzo ne so quando e come vuoi poi, vedete, è stato un po' usato, perciò incaglia un po', vedete? vedete, guardate qui, e poi ci sarà la caffè, là dentro è di plastica e poi, per esempio, l'acciaio inox 18,8, non è 18,10, come si azzecca la calamita, eh? che vi pensate? ecco qua, questo qua è cosa, però lo si potrebbe usare come super cappesulone, su postone, cosa, oppure come il pisello di dell'uomo di latta, dell'uomo di ferro, come si chiama, di Robocop, eh? no, vabbè, ci sarebbe tante quelle battute da fare, capitano, ti puoi vedere qui sopra, eh? eh? vedete il cascato, grazie a sta strunza, eh? comunque, ecco qua, non si può mai stare, ma in un momento la sola, che ti veni tutti quanti qua a dombere, eh? ce ne sono altri mici, eh? missio, eh? di quello che si sta aggattando, comunque, ehm, ho parlato della super cosa qua, ehm, ho detto, ci stanno pure le altre misure, mitio, mi smette di affilarti le unghie vicine al mio piede, guarda, ahh, ma le hai fatto il vento rosso, vedi, mitio? ecco qua vabbè signore come questo è l'unica cosa di male di questo no perché essendo di metallo cioè attira lo sguardo delle altri perché uno dice se uno per esempio fosse di plastica non attirebbe tanto lo sguardo per fare una cosa che già non ci vuole tanto basta si potrebbe pure pigliare che so una bottiglia di metallo perché questo non c'è come invenzione è soltanto una lamiera qua comunque si piglia una cosa che oppure si piglia questo si mette un baco di poliristileno intorno e poliristileno espanse qualcosa che fa tutto quanto con le pallette così quanto cosa no così l'ulta leggeri così cioè coinvegna anche di più come questo vabbè per quello che aveva fatto ne fa vedere signori attenzione andare in giro con questo perché sennò qualcuno può pensare che sia qualche arma qualche cosa è questa nata la cosa si può pure tendere vita come fare attenzione che questo ve lo fregano ecco qua danni saluti e vota omar il poliristileno espanse